Ci troviamo in uno scenario di mercato in cui il tasso di interesse della BCE è al 3% con un tasso di cambio nei confronti del dollaro che oscilla in un range che tocca 1.07 e 1.10. Chiaro, mi limito a parlare solo di euro, altrimenti non ne verremmo più fuori. Se per pura curiosità prendessimo lo stesso periodo in cui la BCE aveva mantenuto lo stesso identico tasso di interesse attuale, otterremmo un'informazione piuttosto interessante e curiosa. Innanzitutto dovremmo tornare indietro di ben 17 anni, precisamente agosto 2006. E noteremmo che in quel periodo il tasso di cambio euro-dollaro oscillava in un range compreso tra 1.27 e 1.29. Stesso discorso, il dollaro che attualmente ha un tasso di interesse pari al 4.75 nel 2006 era intorno al 5.25. In pratica c'è una differenza di spread pari allo 0.5. In riferimento al tasso di cambio, un decremento del 18% circa. Se i tassi di interesse di una banca centrale aumentano, i titoli di Stato potrebbero subire una riduzione del loro valore. Ciò accade perché un aumento dei tassi di interesse rende i titoli di Stato meno attraenti rispetto ai nuovi investimenti con i tassi di interesse più alti. Inoltre, i detentori attuali di titoli di Stato potrebbero essere meno inclini a mantenere i loro investimenti a tassi di interesse più bassi. Il che può anche contribuire ad una riduzione del valore dei titoli di Stato. Tuttavia, è importante notare che i tassi di interesse influenzano il valore dei titoli di Stato perché sono indicatori del costo del denaro. Quando i tassi di interesse aumentano, il costo del denaro aumenta e i titoli di Stato diventano meno attraenti per gli investitori, poiché offrono un rendimento più basso rispetto a prima. Ciò può portare a una riduzione del prezzo dei titoli di Stato sul mercato, a meno che l'aumento dei tassi non sia giustificato da una situazione economica più solida e una maggiore fiducia nel futuro. In tal caso, gli investitori potrebbero continuare a considerare i titoli di Stato come un'opzione attraente. Chiaro è che se si alzano i tassi di interesse, l'aspettativa è quella che anche il tasso di cambio aumenti di conseguenza. Tuttavia, da come stiamo notando, il tasso di cambio Euro-Dollaro non è di certo a favore Euro. Tenuto conto che, prendendo come riferimento una situazione analoga del passato, il tasso di cambio Euro-Dollaro sarebbe stato decisamente rivalutato rispetto alla situazione attuale. Quindi tutti quegli operatori che si aspettavano un apprezzamento del tasso di cambio in concomitanza al rialzo del tasso di interesse della BCE si sono ritrovati ovviamente appesi come prosciutti, incagliati in una situazione in cui a quanto pare è stagnante. E quindi per quale motivo in una situazione analoga si è quasi sempre verificato una rivalutazione del tasso di cambio? Ed oggi, a quanto pare, siamo fermi. Com'è possibile prevedere questi scenari? Intanto c'è da considerare l'elemento primario, che è l'informazione. Un'informazione dettagliata aiuta a comprendere meglio la situazione attuale e ad identificare eventuali trend o pattern che potrebbero suggerire come si evolverà il futuro. Inoltre, un'analisi attenta dell'informazione può fornire indicazioni su quali fattori influiscono sulla situazione in esame e su come essi potrebbero cambiare in futuro. È importante anche considerare le fonti dell'informazione e valutarne la loro affidabilità, in modo da evitare di basare le previsioni su dati imprecisi o fuorvianti. Infine, per prevedere gli scenari futuri è necessario utilizzare modelli di studio e tecniche di analisi che consentano di elaborare le informazioni raccolte in modo sistematico e rigoroso, al fine di identificare le possibili implicazioni di diverse azioni e scenari. La decisione del rialzo dei tassi di interesse può essere paragonata all'inserimento di una leva che può influenzare il flusso dell'economia in modo significativo. Una decisione del genere può avere un impatto importante su un intero sistema finanziario, causando effetti a cascata che possono incidere su molti aspetti dell'economia come l'inflazione, la spesa delle famiglie, gli investimenti, il tasso di disoccupazione. Insomma, è un po' come se qualcuno tirasse la leva del freno ad una vettura che sta cercando di uscire da un pantano. L'aumento del costo del denaro si sta giustificando con l'inflazione. Ma se vogliamo analizzare dettagliatamente il fenomeno del rincaro dei prezzi che è conseguente all'inflazione, non è dovuto alla massa monetaria in circolazione. Lo scenario è ben diverso. Russia-Ucraina, incremento dei costi energetici. Il termine più appropriato sarebbe speculazione selvaggia. Ha stroncato la competitività. Questo perché le aziende si sono ritrovate dall'oggi al domani con i costi di produzione aumentati di parecchi punti, materie prime, energia, provenendo da una situazione di difficoltà a causa dei costi sostenuti durante la pandemia. Quindi economia ferma, non c'è modo di rientrare con le spese sostenute, Aumento del costo del denaro, con conseguente peggioramento della posizione debitoria. L'aumento di un tasso di interesse può influenzare anche le decisioni di investimento e di spesa delle persone e delle imprese, rallentando l'economia e aumentando il rischio di recessione, aggravando la situazione finanziaria di coloro che sono già indebitati. Deprezzamento della moneta, con un tasso di cambio che non supporta la produzione, rendendo l'esportazione poco conveniente perché ha un ulteriore effetto negativo sul costo di produzione. E quindi ecco qui giustificato l'aumento significativo dei prezzi, l'inflazione. Un'azienda per stare in piedi non può vendere a meno dei costi di produzione che ha sostenuto, altrimenti fallisce. Quindi il fenomeno rincaro prezzi conseguente all'inflazione non era dovuto alla massa monetaria in circolazione, ma ha i costi energetici, quindi il rialzo dei tassi di interesse potrebbe non avere alcun effetto sull'aumento dei prezzi, tenuto conto che c'è il rischio di mandare in crisi un'economia già in difficoltà che sta tentando di recuperare ciò che è stato perso in piena emergenza sanitaria. L'aumento dei prezzi, il famoso carovita, potrà essere limitato solo attraverso un intervento dei costi di produzione. Il controllo dei costi di produzione è un fattore cruciale nella gestione dell'inflazione e del carovita. Se le imprese riescono a ridurre i costi di produzione, possono mantenere i prezzi dei prodotti a livelli accessibili e competitivi, limitando così l'aumento del costo della vita per i consumatori. Inoltre un intervento sui costi di produzione può avere un effetto a cascata sulla catena di fornitura, poiché l'abbassamento dei costi iniziale può anche comportare un abbassamento dei costi per i fornitori e i distributori. In questo modo il controllo dei costi di produzione può contribuire a mantenere l'inflazione sotto controllo e a garantire una maggiore stabilità economica per un paese. Oltretutto, gli anni conseguenti alla pandemia è stato venduto ad un prezzo decisamente superiore, greggio stoccato l'anno precedente. Al di là del fatto che ciò ha innescato il rafforzamento del dollaro, che stanno cercando in tutti i modi di indebolire paradossalmente, aumentandone i tassi di interesse per frenare la domanda, fa intuire in teoria dove bisognerebbe intervenire.